Sergio, che cos'è questo oggetto? Un gioco che fanno le impressionisti quando si devono allenare le mani. Gioche di mano. Gioche enigmano? Ech di mano. Secondo me è la rubrica. Secondo me è un sasso. Secondo me è una scala mobile. Verifica. Verifica. Ha preso Sergio, ha preso Sergio, bravo. Cambi immagine, è un bene di aro. Un abbeveratoio per i culi. Verifica. Gioche enigmano? Porca Dio. Ecco qua, guardato. Bravo Sergio. Una chiave di italiana. Una chiave italiana, ok. A me mi ricorda il flessibile. Gioche enigmano? Gioche enigmano? Gambio immagine. Un marocchino. Secondo me è Sergio da giovane. Sistema. Verifica. Gioche enigmano? Gambio immagine. Questo è tutto un quadro. Secondo me è un santo. Non so che santo è, però è un santo. È morto antico, però cosa è sicuro. Chiedo e verifica. Gioche enigmano? Questo è un rullo. Un rullo dei bambini. Un gioco dei bambini. Gioche enigmano? Questo è un coso di scarpe. Un battescarpe. Per entrare dentro i piedi. Secondo me è un barbacomà. Verifica. Grande Sergio ci ha preso Sergio. Questo è un gomitolo di lana. Madonna. Madonna. Un topo che non ci ha creduto abbastanza. Chiedo verifica. Grande Sergio. Questo è un lampadario. Un lampadario di luce. della città. Porta luce. Io vedendo così, secondo me, questa è tutta Bivongi. Mi sembra Bivongi. Io dico Bivongi. Può essere. Sbagliare io, allora. La volta di sbagliare. Questo è lo scudetto del Napoli. Che lo verifica. Forza sbagliato. Cambio, fiere, cambio. Ma può essere un coso di vedere da vicino. Ed è un porta, un porta e vedere. Secondo me è un ustio, una formiche. Eh, questo è difficile. Secondo me è una pentola. E secondo me è un cocco pulvacaco. Chiedo verifica. Di questa donna della verifica. Buona, buona. Allora, questa è l'erba del mare. Sergio, questo è il sushi. Tu mangiaste, puro. Secondo me è la cacca di Sergio. Quando si trova la caccia. Eh, sì. Come devo dire? Verifica. milano porco dio grande sergio parco dio ma l'uomo mp su verifica ripreso sergio bravo bravo ti aspettiamo qua allora questa è una colore un corso di praticamente una pistola secondo me sergio quando era grasso vai sergio per l'ultima volta sì ok ha vinto sergio è fenomenale quando è bravo come devo dire un bestemmione porco grazie grazie bravissimo zio